Radio, all'ex sindaco di Castiglione delle Stiviere, ma anche, ricordiamo, imprenditore in pienissima attività, di nuovo con noi Guido Stuani, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioscoltatori. Grazie per essere venuto, ricordiamo solo una delle tante coordinate, numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105. Allora, noi oggi abbiamo deciso che spaziamo dall'infinitamente grande, non l'infinitamente piccolo, ma arriviamo a Castiglione, perché poi ogni azione si ripercuote sull'altra, fino appunto anche su di noi direttamente, proprio in maniera diretta o indiretta, ma comunque abbastanza rapida. Iniziamo con questa crisi internazionale legata fondamentalmente alle prese di posizione negli Uniti nei confronti della Corea, la Siria, nuove minacce al Papa, gli attentati anche che si sono tenuti recentemente e la risposta anche con tanto di gaffa anche di Trump, per esempio nei confronti della Corea, che ha citato Hitler dicendo che neanche lui aveva usato il gas, forse non conosce molto bene la storia. Io partirei da qui perché io ho una mia idea, una mia idea che è però supportata anche da alcune interviste che sono state fatte recentemente ad alcuni giornalisti internazionali. Innanzitutto è da deprecare l'atto della Siria di gettare gas sulle popolazioni, anche se parte di questi erano ribelli al regime non credo che sia la maniera più corretta, anche perché questa va a toccare anche le famiglie, va a toccare i bambini, tutta la guerra è deprecabile, però questa maniera è peggiore ancora. Quello che mi stupisce è un po' la reazione, non tanto la reazione dell'America che poteva esserci forse anche giusta, non lo so, ma una reazione che secondo me mi ha fatto ridere. Mi ha fatto ridere perché se tu devi fare una reazione ad un'azione sbagliata, non lo fai avvisando coloro che sono stati interessati a questo delitto. In fondo, prima di mandare i missili ha avvisato Putin che avrebbe mandato i missili. E' ovvio che Putin avrebbe avvisato i suoi amici siriani e quindi i missili sono andati a finire in campagna, perché gli aerei erano già partiti e la gente si era già spostata. Queste sono le cose che sicuramente dimostrano anche parecchia non grande visione della politica internazionale. Diversa è la situazione della Corea. La Corea è vero che può rappresentare un pericolo mondiale se fabbrica la bomba atomica, però in effetti è sicuro che la bomba atomica la Corea se la fabbricherà anche perché è una delle nazioni più ricche di uranio e quindi non ha necessità di andarlo ad acquistare, ce l'ha in casa e quindi questo la mette nella condizione di andare avanti e nel tempo sicuramente l'avrà. Credo che le sanzioni economiche contano niente, perché già la gente in Corea se non è alla fame lo è quasi, quindi più di tanto non è che possano andare. Quello che c'è da fare è veramente cercare, secondo me devono fare degli sforzi per capire cos'è che vogliono le grandi nazioni. Allora, se non c'è un accordo tra America, Russia e Cina non si risolve né il problema della Corea né il problema della Siria, della Siria o di altre parti del mondo dove ci sono queste guerre, dove c'è un ISIS che ormai quasi sconfitta sul campo di battaglia di posizione e ormai avremo sempre di più attacchi isolati nelle varie parti del mondo. Quindi non dobbiamo meravigliarci se prima o dopo potrà capitare anche in Italia. Dobbiamo essere molto attenti, molto vigili e dobbiamo però, credo, esercitare maggiori controlli anche sulla questione dei migrati. Non è che adesso hanno fatto una nuova legge, qualche restrizione in questo senso, però secondo me siamo ancora un po' disarmati perché chi arriva qui senza documenti non è facile neppure identificarli domani, neppure sapere da che nazione provengono per poterli mandare indietro. Quindi secondo me va specificato bene che chi non ha i documenti non può essere ospitato. Fermiamoci un attimo con Guido Stuani, ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Stiamo dialogando con Guido Stuani, ex sindaco di Castiglione delle Siviere, che come sempre sta facendo collezione di messaggi degli ascoltatori, dopo li leggo ovviamente. Intanto continuate a inviarli, il numero è il 338 17 19 105. Allora stavamo parlando di questa necessità delle grosse nazioni, appunto le ha detto giustamente Stati Uniti, Russia e Cina, ma c'è anche questo terzo, c'è sempre stato però adesso più potente ancora, appunto devono accordarsi perché sembra quasi che qualcuno tragga profitto dai contrasti in Medio Oriente. è evidente, l'economia che si sposta da un paese all'altro è evidente che guarda molto a queste cose. L'America sta facendo un discorso di restrizione al suo interno per dare spazio alla propria economia senza tener conto che nel tempo poi questo si ritorce perché le nazioni che acquistano dall'America, se l'America pone dazi nei confronti di altre nazioni evidentemente che le altre faranno la stessa cosa. Quindi è una cosa sicuramente che è sbagliata perché oggi con l'economia mondiale che è collegata attraverso Internet, attraverso tutta una serie di società internazionalizzate, non è che si possono fare certi tipi di restrizioni. Io credo che per esempio anche la stessa Inghilterra essendo uscita dal coso avrà anni e probabilmente anni di difficoltà perché è vero che ha il vantaggio di essere nel Commonwealth e quindi di avere collegamento con tanti altri paesi ma sicuramente i rapporti bisogna vedere come si svilupperanno i rapporti con l'Unione Europea. L'Unione Europea deve solo cercare di fare chiarezza nel proprio interno, non è pensabile che economie vadano avanti a 100, altre a 50 e altre a 20. Allora in una comunità vediamo quella americana, le nazioni sono tutte, i vari stati americani sono tutti collegati in un'unica nazione. Noi purtroppo siamo ancora in troppe nazioni, cioè ognuno pensa a casa propria e si fanno regole che strozzano qualcuno e favoriscono qualche altro, quindi questo secondo me è uno dei passi da rivedere nell'ambito europeo. Ci sono stati degli Stati Uniti anche recentemente che sono falliti, il famoso default che veniva rappresentato e non è successo niente perché comunque fanno parte appunto di una federazione e quindi sono intervenuti gli altri. Del resto è come una famiglia, se sta male uno non è che la famiglia abbatta il componente, lo assiste. Certo, insomma adesso noi non possiamo farlo facendo esempio la Grecia, la Grecia abbiamo prestato tanti soldi, un po' anche l'Italia ma non più di tanto, ma comunque in particolare la Germania ha prestato un mare di soldi a dei tassi che hanno soffocato la Grecia in passato, quindi non è così che si aiutano le nazioni, va bene? Io ti do dei soldi perché per aiutarti a far crescere la tua economia, per risolvere i tuoi problemi, tu devi fare gli aggiustamenti che devi fare, ma a un certo momento non devi farli neanche, darli neanche quasi di astruzionaggio. Andiamo su Castiglione a questo punto, perché poi tutto quanto va a ripercuotersi sulla nostra vita quotidiana, perché poi questa crisi internazionale ha causato una crisi anche in Italia come in Grecia, perdita di posti di lavoro, chiusura delle aziende eccetera e Castiglione tra l'altro sarà presto interessata dalla rielezione del proprio sindaco, della propria amministrazione comunale. Sì, dicevi giustamente che le situazioni internazionali si ripercuotono perché se l'economia mondiale non va, anche le aziende e noi a Castiglione abbiamo la fortuna di avere tante grosse aziende, possono probabilmente avere problemi e difficoltà in futuro, qualcuna in passato l'ha già avuto, altre potrebbero averle. Io credo che Castiglione ha una fortuna ed è quello di avere parecchie aziende alimentari che sostanzialmente il mercato dell'alimentazione tira sempre, perché mangiare bisogna mangiare e quindi queste aziende che hanno anche una certa grande capacità di aggiornarsi, di essere all'avanguardia sicuramente garantiscono un buon passo per Castiglione, però non ci sono solo le aziende alimentari, Castiglione ha vissuto in passato proprio sulla varietà di aziende che ci sono e quindi ha superato meglio di altri la crisi, le crisi che ci sono state, sono state le crisi nella calzetteria e evidentemente la crisi della calzetteria ha provocato in paesi come Castel Goffredo dalle grosse e grosse difficoltà. Prego intanto l'ascoltatore che ha telefonato di pazientare un secondo, chiediamo a Guido Stoani se può mettere la cuffia, perché c'è una telefonata in diretta, sentiamo, pronto? Sì, volevo chiedere al sindaco un'opinione per quanto riguarda la biociclo, l'indecasta e l'acqua. Secondo me sono state svendute alla TEA per il 2% dei debiti della TEA, perché sappiamo che la TEA deve pagare il gas delle popolari in giro, delle ale e tutto quanto. Secondo me Castiglione ha venduto i gioielli di Castiglione, perché ho sempre saputo, uno che ha fatto 35 anni di ufficio tecnico anni in comune, che l'acqua e il cimitero è il salvadenaio della comune. Benissimo, la domanda è chiara, le faccio rispondere tramite radio, se vuole può togliere la cuffia, anche lo diciamo. Sì, va bene, comunque è uno degli argomenti che anche in passato anche io ho un po' citato, io non ero d'accordo che si cedesse a TEA per vari motivi, a TEA certe nostre, chiamiamola ricchezze. È avvenuto già in passato che amministrazioni prima hanno ceduto il terreno per salvaguardare un po' i propri bilanci, poi hanno ceduto parte degli impianti e questo secondo me non è stato, non è un buon affare. Per carità, poi bisogna vedere un po' le situazioni come sono, c'erano degli obblighi di raggruppamento per quanto riguarda il discorso degli acquedotti, io sono sempre stato dal parere che era preferibile tutto sommato cercare un accordo con Sesam e con aziende più locali, anche perché guardando poi alla fine vedo che la TEA l'anno scorso ha fatto dei grossi utili, utili che va bene, è vero che in parte andranno anche ai comuni, ma sicuramente solo una piccola parte, mentre la parte maggiore rimarrà a Mantova e quindi noi stiamo continuamente rafforzando quella che è una situazione economica della società, del comune di Mantova a scapito un po' dalle nostre società. Io credo che Indecast sia una società che può funzionare bene, che funziona anche bene, che fa i suoi servizi che gli rimangono, li faccia anche abbastanza bene, però credo che averla deturpata di alcune attività, questo comporta che per esempio certe spese di carattere generale vanno ad essere caricate solamente su una delle attività che sono rimaste, mentre invece prima si potevano spalmare su acquedotto, su tutte le varie attività. Le chiediamo una cosa, ha qualche minuto da dedicarci ancora? Allora facciamo una breve pausa con Guido Stuani, ci troviamo tra altri due minuti, arriviamo. Siamo con Guido Stuani, ex sindaco di Castiglione delle Vestiviere e comunque imprenditore ancora in pienissima attività. Le leggo un messaggio, te hai l'azienda provinciale, lei lo sa bene che si sta centralizzando tutto, quindi non c'era possibilità di scelta, dice Ivan. In realtà stava proprio affrontando questo argomento adesso. Sì esatto, non è vero che non ci fosse una possibilità di scelta perché l'ho detto prima, la possibilità era quella di accordarci eventualmente con Sisan, che sono quindi Castelgofredo con i paesi qui limitrofi e creare un'azienda nostra dell'Alto Mantovano. Per carità, io non voglio dire che TEA funzioni male. TEA è un'azienda di Mantovano, del comune di Mantovano, un'azienda che guadagna e che dà i maggiori profitti, li dà al comune di Mantovano. Noi avremmo potuto avere una società che avrebbe potuto distribuire eventuali profitti alle popolazioni nostre senza andare troppo lontano. Per carità, sono decisioni, non so in futuro se saranno vantaggiose o se ci costeranno. Sicuramente io credo che il futuro delle amministrazioni è quello di crearsi possibilità di entrate anche diverse rispetto a quella delle tasse. Poi, vabbè, sono un imprenditore, quindi vedo anche amministrazioni che possono essere imprenditrici purché abbiano poi la capacità di gestire queste società che possono produrre anche profitti. Il continuare a dare servizi ad altri vuol dire che aumenti i tuoi costi e non hai sicuramente ricavi. Voltando un attimino pagina, si parlava di politica internazionale, siamo partiti da lì e è appunto un tema che poi ci va a toccare direttamente, anche per le tensioni che ci sono nel mondo, è quello degli esodi, quindi noi li chiamiamo i migranti, gli immigrati, eccetera. Un ascoltatore o ascoltatrice ha scritto che l'ex ministro, Chienge, non ho mai capito dove vado l'accento, ha fatto capire agli immigrati che si può arrivare da clandestini e poi guadagnare 1500 euro al mese grazie ai cattocomunisti, ha scritto l'ascoltatore. Io ho letto pari pari il messaggio. No, va bene, secondo me non è giusto, a parte cosa c'entrano i cattocomunisti e i non cattocomunisti. Secondo me ci sono problemi di carattere molto, ma molto complicato per quel che riguarda gli emigranti. Questa gente viene via da parecchia, viene via da guerre e da distruzioni, altri vengono via da situazioni da fame e aspirano evidentemente a un mondo che non è più il loro mondo, ma un mondo diverso e quindi quando cercano di arrivare qui arrivano con tutti i mezzi, arrivano arrischiando di morire in mare, arrivano senza documenti di proposito perché così non possono essere rimandati nei loro paesi eccetera. Credo che noi dovremo su questo adeguarci e cercare di fare in maniera che chi non arriva senza documenti ritorni immediatamente da dove è partito. basta. Oppure questo però presuppone anche accordi di carattere internazionale, specialmente con la Libia da dove arrivano questi disperati. Non dobbiamo denigrare la disperazione della gente, dobbiamo aiutarla, ma a volte c'è modo e modo di farlo. di farlo, certo. Torniamo su Castiglione, tra tutti i candidati di oggi gli unici che sono stati in comune sono Volpi Novellini, gli altri che ci capiscono di gestione pubblica, dice un ascoltatore. Le leggo altri messaggi che si recuperiamo, cosa pensa della politica di Castiglione, se andrà al ballottaggio anche le chiedono se secondo lei, fammi indovino che ti farò ricco, però comunque una opinione ce l'avrà ovviamente. Le leggo un altro messaggio, facciamo così anche, dice a Castiglione però, dice un ascoltatore, il problema è che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, ci sono poche famiglie che comandano e non saremmo mai una città in questo modo. Questa è un'analisi più sociologica se vogliamo. Credo che sia una domanda alla quale è difficile rispondere, perché bisogna capire quali sono le famiglie che comandano, perché, che tradizioni ci sono rispetto a queste famiglie, eccetera. Se è una questione di carattere famiglie perché hanno una certa capacità economica, famiglie che invece hanno una tradizione nella gestione del territorio, non so. Comunque è una risposta difficile da dare, questo è evidente. Quello che secondo me è chiaro adesso, comincia a chiarirsi, è la posizione dei candidati e delle quattro liste che si sono identificate. ognuna sta presentando a spicchi qualche branetto di programma, attualmente sono abbastanza simili, novità non ce ne sono, perché tutti parlano delle strade, tutti del centro storico, tutti da spazio al commercio, eccetera. Secondo me abbiamo avuto però in questo periodo, all'ultima volta che ci siamo sentiti, alcune novità. La prima novità, quella direi più grossa, è stata quella dell'entrata in scena con Cinque Stelle della Zanotti Lucia. La Zanotti sicuramente è un personaggio molto importante, un personaggio che a Castiglione è molto conosciuto, direi che è anche molto apprezzato come persona per la sua attività che ha svolto, è stata un'imprenditrice, ha sviluppato anche un bellissimo negozio di mode, cioè è una che ci ha saputo fare. Poi si è fatto questa scelta, va bene, è una scelta che secondo lei è ragionata dal fatto di aver trovato qualcosa di diverso e di nuovo. Comunque, sicuramente è un grosso personaggio, un grosso affare, credo per Cinque Stelle. L'altro colpo, secondo me è importante, l'ha fatto Volpi, candidando Paganella al settore della scuola e della cultura, perché Paganella sicuramente è un grosso personaggio anche lui, un uomo di grande cultura, un uomo che ha avuto anche esperienza di carattere politico e sociale e quindi ha una grossa possibilità, credo di essere un buon assessore alla cultura. Questo credo sia una delle cose importanti per il momento di Volpi. Novellini ha pure fatto un buon acquisto, acquistando nel suo gruppo, ingrovando nel suo gruppo questo gruppo di giovani capitanato da Ferrari e quindi anche questo ha cresciuto la sua visibilità, la sua possibilità. Finadri è l'ultimo arrivato con questa organizzazione civica, chiamata appunto Castiglione Civica, del quale dovremo vedere quali saranno i personaggi che ruoteranno attorno a lui. Quindi è ancora un po' prematura l'inclusione su questo gruppo che verificheremo poi in futuro. Credo che cominciamo a vedere qualcosa, a dare qualche chiarezza ai cittadini di Castiglione, magari più confusi di prima nel senso che si farà più fatica a scegliere fra i quattro, però almeno avremo delle idee chiare sulle quali ragionare. In futuro potremo appunto verificare programmi però che devono essere dettagliati e persone che devono essere indicate chiaramente. Le leggo un messaggio, Franco dice, perdoni Stuani, l'unico che parla di commercio è Volpi, per correttezza, dice Franco. Io qua non so rispondere a Croce Rossa, dice un altro messaggio, Davide, è in tutti i programmi elettorali ma col comune c'entra poco come San Luigi, non sono proprietà comunali, attenti cittadini, dice Davide. Stuani è vero che lei con Volpi chiedono ancora e poi mi spiega questa cosa del cambiamento, chi governa dice che cambierà e non si capisce perché non lo abbia fatto fino a questo momento, dice Marina invece. Ma vedi che io sia con Volpi non è corretto a dire, ho sempre detto che sto guardando, sto stando anch'io alla finestra un po' per vedere quali sono i personaggi e le decisioni che verranno prese dai vari candidati, quindi per me sono allo stato attuale, sono tutti un po' alla pari, vediamo poi andando avanti quello che succederà. Sicuramente non vado alla radio per fare propaganda per l'uno o per l'altro, questo sia chiaro, quindi da me non sentirete mai a dire che favorisco questo o quel candidato. Quello che farò lo farò credo l'ultimo giorno nell'ambito della cabina elettorale dove veramente farò l'ultima riflessione e l'ultima scelta. Benissimo, grazie per la sua correttezza, anche grazie a Guido Stuani. Grazie a voi, grazie ai radioscoltatori che hanno la pazienza di ascoltarmi e anche di provocare qualche risposta da parte mia. Grazie a lei.